Più che strade e stazioni sicure, dal primo settembre il ministro Piantedosi invierà 15 militari in provincia di Monza per garantire maggior sicurezza ai cittadini. Si svolta in prefettura una riunione operativa per definire con quali modalità impegnare le risorse assegnate nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. Il confronto, coordinato dal prefetto Patrizia Palmisani, ha visto la partecipazione di tutti i componenti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica Brianzolo. Al termine della riunione sono state definite le zone più critiche da un punto di vista della sicurezza, che saranno dunque presidiate anche dai militari in divisa. Le pattuglie di strade sicure saranno impiegate in provincia di Monza nell'attività dell'area urbana della stazione ferroviaria del capoluogo. In più, i militari saranno presenti nelle aree delle stazioni di Lissone e di Seregno, con una particolare attenzione agli orari di maggiore afflusso di utenti. Nella città di Monza, inoltre, i militari assicureranno la vigilanza delle principali piazze del centro, sulla base di una pianificazione dinamica dei servizi, che privilegerà in questo caso le ore serali. Le istituzioni hanno inoltre definito di portare avanti un monitoraggio dell'efficienza dei servizi, in modo da assicurare la costante aderenza della missione alle nuove priorità in termini di sicurezza, che potrebbero registrarsi in provincia. Il nuovo inserimento nel nostro territorio dell'operazione esterale sicure, dichiara il prefetto Patrizia Palmisani, è indicativo dell'attenzione delle istituzioni centrali alla provincia di Monza e Brianza. Con l'arrivo dei militari si amplierà la platea degli attori del sistema provinciale della sicurezza. Assicuro che tutte le componenti continueranno a operare in sinergia, con l'obiettivo, conclude il prefetto, di migliorare ulteriormente l'efficienza dell'azione di presidio e vigilanza del territorio nell'interesse dell'intera comunità.